E' sponcoli! Allora signori vogliamo rinnovare un applauso al piccolo Francesco insieme a tutta la sua famiglia Grazie, seguite per favore i festeggiati dietro perché tra qualche secondo troverete tutto il personale del catering pronto a servirvi e ad aspettarvi Intanto buonasera, benvenuti e bentrovati a Villa Mauta a ricevimenti Da parte nostra e di tutto il personale di sala volevamo augurarvi di trascorrere una bellissima serata all'interno di questo splendido scenario Buona presente, tra qualche minuto io prenderemo buonasera a tutti e buon divertimento Nel frattempo pronti per il brindisi, ancora un applauso per Francesco, tanti auguri 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona cena e seguito a un buon divertimento. Buon appetito.